Presidente, oggi un giorno molto particolare per il Tribunale di Teramo perché prende ufficialmente l'incarico di Presidente del Tribunale, il Dottor Iacoboni, ma ha avuto un'accoglienza non di certo delle migliori. No, un allarme bomba, il secondo allarme di quest'anno, quindi un inizio un po' particolare per il nuovo Presidente del Tribunale che appunto a mezzogiorno avrebbe dovuto giurare e quindi prendere possesso della sede del Tribunale di Teramo. Ma questi continui allarmi bomba per quale ragione secondo lei? Beh, secondo me io non riesco a capirlo perché credo che non ci siano attualmente dei processi penali rilevanti oppure particolari, c'è qualcuno evidentemente che si diverte e le forze dell'ordine obbligatoriamente debbono far evacuare il palazzo, fare le verifiche e poi con pazienza aspetteremo e rientreremo a fine verifiche. Un tempo si rinviavano tuttavia le udienze interrotte per un allarme bomba, adesso vengono soltanto rinviate di qualche ora? Sì, se è possibile, altrimenti se in pratica non sarà possibile verranno rinviate a data da stabilire. Quindi si presume che sia questa la motivazione di queste telefonate false? Ma non so, perché bisognerebbe pure vedere, perché molte udienze hanno già iniziato, per cui o l'allarme lo si fa la mattina all'inizio delle udienze, però farlo alle 11, 11 e mezza, quando le udienze stanno volgendo al termine, credo che non abbia senso. Quindi i motivi io non riesco sinceramente a capirli. E voi avvocati, giustamente, trascorrete qualche minuto al fresco in attesa di poter rientrare? Sì, forse è meglio fuori al fresco che nel caldo, nella calura interna del tribunale. Aria condizionata no? No, beh, credo che sia impossibile poter condizionare un palazzo del genere. Solo nelle stanze dei giudici è possibile condizionare per il resto. Vederemo se sarà possibile fare qualcosa. E allora, per fare una battuta, sarà stato qualche avvocato che voleva un po' di refrigerio? Vorrei, non aveva voglia di venire a fare udienza.